Musica Lettere con polvere bianche minacce di morte ai sindaci di Susa e Chiomonte favorevoli alla TAV non ha il diritto di decidere per la Val Susa hanno scritto Tre buste contenenti minacce ad una polvere sospetta sono state recapitate in Val di Susa due sindaci favorevoli alla TAV e alla presidente dell'ASCOM in isolamento quattro persone entrate in contatto con la polvere solidarietà e indignazione dal mondo politico Buste di minacce a personalità della Val di Susa favorevoli alla TAV Torino-Lione la prima al sindaco di Susa Gemma Amprino dentro una imprecisata polvere bianca ed un biglietto esplicito il primo avviso è scaduto ora passiamo ai fatti sappiamo dove vivi dimettiti o la tua vita sarà breve e allargheremo le minacce alla tua famiglia Un'altra busta analoga alla presidente dell'ASCOM proprietaria di un hotel dove alloggiano spesso forze dell'ordine dipendenti del cantiere la terza sindaco di Chiomonte Renzo Pinar che invece preavvertito dai carabinieri non ha aperto la missiva Io non mi lascio il finitino ho sacrificato tanto ho sacrificato la mia famiglia il mio lavoro la mia persona per fare in modo che quest'opera iniziasse Immediato l'intervento dei carabinieri dei vigili del fuoco che hanno isolato locali e persone venute in contatto con la polverina che sarà identificata entro stasera Solidarietà dal mondo politico e istituzionale il sindaco di Torino Fassino parla di un copione indegno e vile il PD denuncia il clima di fanatismo e di intolleranza Pichetto e Napoli del PDL chiedono guardia alta contro i violenti e risposta ferma della politica Locatelli di Rifondazione parla di provocazione per sporcare le ragioni notare Il sindaco Pinard chiede una cosa sola Che lo Stato mantenga cominci a far vedere che mantiene le promesse fatte sulla Val di Susa Noi dobbiamo creare dei posti di lavoro in valle e questo lo dobbiamo avere subito ma proprio per isolare questi passi che scrivono queste lettere Grazie a tutti